Le composizioni di Gershwin hanno attraversato molti generi, dal jazz alla musica classica. Tra le sue opere più note, Razzo di Andrew, 1924, e un americano a Parigi, 1928. Nel 1917, a soli 19 anni, quando era stata assunta Broadway come compositore di Mewtwo, scompose di Art e Mewtwo, un red time per Bianforte che ottene un discreto successo commerciale. Ora lo scontriamo nella tradizione del film band realizzata dal nostro compagno Francesco Franco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.